salve amici ben ritrovati in questo nuovo video io sono fabrizio e quest'oggi voglio presentarvi una mod molto particolare si tratta della renault 5 gt turbo coupe de france 2018 che mi è stata gentilmente offerta da motori nella leggenda in particolar modo vorrei ringraziare luca l'azzalato che mi ha dato questa possibilità di testare per primo questa fantastica auto che sarà presto rilasciata in public release se non è già il caso in cui è stato organizzato un mini trofeo di sei gare appunto chiamato coupe de france questa renault 5 turbo è alimentata con un motore a posizione centrale posteriore a dei parafanghi posteriori bodybuilding e la versione turbo è commercializzata dal 1980 ed è stata sviluppata come auto da corsa civile il suo motore da 1400 centimetri cubici turbo compresso gli ha permesso di forgiare una formidabile esperienza di rally in particolare vincendo il rally di monte carlo nel 1981 o il tour de course nel 1982 e 1985 ha vinto anche tre volte il rally di francia championship nel 1981 82 e 1984 questi alcuni aspetti tecnici e un po di storia di quest'auto comunque che fa sognare soprattutto gli amanti del vintage ha un peso di circa 970 kg sviluppa 160 cavalli per una coppia di 221 newton metro una velocità massima di circa 208 chilometri orari e fa i 0 a 100 in 6 secondi e 6 per una potenza di 6,06 kg per cavalli personalmente ho testato quest'auto e non avendo il cambio ad acca è complicato poterne sfruttare effettivamente le sue potenzialità quello che però sono riuscito a capire subito e che effettivamente luca è riuscito ad ottenere una mod con un algoritmo che viene direttamente dalla Renault ragazzi quindi questa mod vi offre quelle che sono le sensazioni più vicine possibile a quella che è la realtà un po come si è basato la cunos simulazione nella realizzazione dei suoi contenuti ufficiali infatti all'inizio la cunos si basava su gli algoritmi che le case produttrici di auto gli fornivano andava con il suo bel computer a testare le auto direttamente in pista e poi cercava di adattare il comportamento fisico dell'auto ed è quello che succede con questa Renault 5 Turbo Europa Cup e quindi ringrazio ancora nuovamente luca perché effettivamente questa è come direbbe Carlo X veramente un'auto da pelo sullo stomaco cioè questa auto non perdona assolutamente c'hai quel senso di leggerezza quando sei sul rettifilo ma quella sensazione che ti fa rizzare i peli quando devi affrontare una curva e sei troppo veloce sotto stesso pauroso che è nella realtà quello che succede è un'auto che è veramente devi essere un dominatore per poterla portare ai limiti e farne un po quello che vuoi infatti a testimonianza di quello che vi dico c'è proprio le live su youtube sul canale di motori nella leggenda che testimoniano che comunque i piloti devono veramente lottare per poter tenere le auto in pista e soprattutto tenere dei buoni tempi ma questo fa parte della regola di quelle che quelle che sono le auto vintage in cui un pilota si chiamava così perché realmente se lo meritava è un'auto che è strutturalmente molto ben realizzata come dicevo in termini di fisica ma anche l'audio l'audio si sentono i freni fischiare si sente quel borbottio particolare di quest'auto soprattutto nelle scalate in termini di grafica devo dire che l'interno è quello spartano di un'auto da corsa manca praticamente tutto e la realizzazione è basica e ci sta tutto questa auto viene fornita con ben 32 livree alcune sono veramente di ottima qualità altre un po meno ma questo fa parte anche del gioco delle mod devo dire ragazzi infine che se vi devo consigliare questa mod dovete assolutamente correre come dicevo la public release sarà rilasciata pensa alla fine di questo mini torneo se non è già il caso io vi lascio comunque il link in descrizione per quanto riguarda sia il canale motori nella leggenda che il forum che la pagina ufficiale in modo tale da poter chiedere informazioni se siete interessati ringrazio nuovamente motori nella leggenda e luca l'azzarato per avermi permesso di poter testare questa mod se il video vi è piaciuto ragazzi pollice in su come al solito non esitate a lasciare un commento qui sotto iscrivetevi al canale tanto è gratuito noi ci vediamo al prossimo video da fabrice è tutto ciao